salve a tutti eccoci di nuovo sul super mario all star oggi si va avanti con un nuovo gioco il super mario 2 dell 88 grande e niente si comincia da zero ovviamente e partiamo subito ok allora questo eccoci intanto si sceglie quattro personaggi vabbè dire ripartire con mario dato che porta il nome del gioco facciamone questo onore allora questo è praticamente tutta un'altra cosa non ci incazza nulla con quelli precedenti anche perché in realtà attenzione si può raccattare bestie tipo in realtà questo gioco se non vado errato nasceva cioè non era super mario all'inizio poi l'hanno adattato perché era richiesto il seguito questo non dovrebbe essere stato in realtà doki doki panic una cosa del genere infatti chi segue chi segue il mocha lo saprà assortite in pratica dovrebbe essere allora qui si può raccattare con queste porte segrete i so i gettoni più che altro mancato gettoni che serviranno alla fine del livello e funghi che aumentano i cuori disponibili punti vita diciamo in pratica dicevo la storia dice che il vero seguito di super mario dovrebbe essere stato il the lost levels quello che abbiamo appena finito con grandissime difficoltà poi invece è stato portato su questo è stato riadattato questo d'occhi d'occhi una vita buona buona morite perché vabbè il cuoricino c'era già la bomba attenzione un guscio in pratica dice che per i giapponesi era considerato troppo difficile il lost levels e avevano ragione tieniamo un po' che c'è di un niente già come cosa nuova rispetto ai precedenti addio cioè il fatto della schermata anche si può tornare indietro non è a senso unico attenzione uno stop allora qua che c'è una porta io andavo a andare di là prima si ok allora questo me lo ricordo ah già tenendo premuto in basso si può fare si può fare qualcosa aspetta il salto più alto vieni qua attenzione la bomba vai ora lungo attenzione cazzo troppo poco vabbè la faccia via qui ci sono altre monete e un altro funghetto quattro cuori no non ci arrivo chi è via questa bestia chi è chi è che muori non muori vabbè ti ammazzo ti scaglio contro quest'altro mancato 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 ma vaffanculo qui è il level di raccogno ora dopo aver giocato aiuto aspetta dopo aver giocato al the lost level sicuramente sarà abbastanza semplice adesso attenzione boss di fine livello molto semplici questi boss sono questi cosi qui che sparano delle caccole anche in questo caso si prende e si tira addosso semplicemente classico tre colpi e fin mancato ti è ci riguzzano questa sfera e si va avanti adesso si vede dove vi fa vedere che servono le monete attenzione c'è la roulette il gioco clandestina qui serve per cazzo 10 vite così boia che culo ecco con la ciliegia al primo posto guadagno una vita comunque invece facendo varie combinazioni ora io penso ah anche nella vita perchè c'era quel coso all'inizio ecco adesso un cazzo boia primo colpo 7 il tris di 7 a faccia ok è finito no scelgo 0 eh no eh 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 non lo vuoi troppo ciccio eh eh su si uscire un altro personaggio io prenderei un luigione tanto perchè è rimasto dopo l'esperienza del gloss level anche qui ovviamente salta in maniera strana aiuto vieni ora dammi il tappeto volante vola giù aiuto 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 addio vai sappiamo chi ok ecco non si raccatta questi basta andare dove c'è le erbettine lì qui ce n'è tre si prende tre gettoni e anche il fungo anche il fungo mancato figlio grande ok perchè il tempo è limitato e che cazzo questi sarebbero i tubi una chiave giusto vai 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 non ti fa intimorire chi è ah qui c'è da spaccatutto cazzo 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 dai un po' di spaccare tutto c'era un altro ok facciamo così ho due l'ho messa addio noo ma dai cazzo vaffanculo Vabbè, dettagli Stellina mi porta una sigla Via, via, via Troppo Ce n'è cose? Ovviamente no Vabbè Allora, eccoci Anche c'è un bossettino a ogni livello Va abbastanza tranquillo Comunque Ce la fa? Corto Vieni, spara Dio, buono Che fa? Troppo Entriamo nella bocca dell'aquila Sette, niente Beh, c'è andato di culo una volta Ora basta Invece no Invece sì Va bene, va bene Vabbè Proseguiamo con Todd, vai Sì, più o meno Faccio anche qui Un mondo a video Sono tre livelli Ci arriverà? Assolutamente no Vai, quella spinta Il peta Propulsione Le ciliegie Le ciliegie Sinceramente non mi ricorda cosa serve Oh Andiamo un po' Pozione Non ci sono piante La mia stella La mia stella Ups 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 Addio Si ferma più Oh, qui c'è una bella stenderia di roba Vai Moneta 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 Mi prende il fungo Moneta Moneta Ciliegie Anche Tiè Ok Tutto regolare Ok Ho fermato il tempo No cazzo E là Tiè Un altro Bono Se prende Oh vai Attenzione Oh cazzo Ho sbagliato Aspetta Qualche c'è Niente Niente Ah niente Proseguiamo Qui c'è un movimento Ok Mi sa che deve andare prima Su Vai Toad Momento di gloria Per Toad Aiuto Questo Che servirà Che arriva qui Vediamo Se ho azzeccato la via È uguale Ok Ok Qui ci do Prende il chiavone Si incazza Il guardiano Chicano Chicano Togliti dal mezzo Via Dove devo atterrare Destra Esattamente Vai Così È in mezzo Ho sbagliato Ah vabbè Tutto uguale Ste vie Toh Che culo Curicino Curicino Mio 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 E pigliala Vai 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 Ah Ho finito Ah già ora c'è il boss Di fine mondo Eccoci Eccoci E cosa potrà mai essere Se non il vecchio Bowser Non è vero Se non è Bowser Che vuoi che sia Ma ce la fa Andiamo Attenzione Finansia Un topo Grandissimo Allora Quindi non bisogna far Che tirargli una bomba Adosso Appena Ce ne capita Una sotto mano Se ci fa Aiuto Tien Maremma Cua Vai E uno Ma là Sei scemo Corto Grandissimo Così Vai via Dammene una Vai 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 Presso E due Grande Così E tre Esatto Quindi Ah La server continua C'è le monete Ah Ho messo Ah Devo uscire Andiamo La roulette Due vite Vabbè Due cilielli No Un'altra vite 21 vite Che giri Eh sì S'ha dormito Oh No Scusi No No Oh Todd Fai cacca Come il giotto De la Zad No A far colpaccio Vabbè Ok Primo mondo è finito Quindi Direi di fare un mondo A episodio Come al solito Si comincia con la principessa Dopo Si è Si fa le osse Trasgressive Vabbè Quindi questo episodio Finisce qua Ci vediamo al mondo numero due E quindi Ciao 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 Ciao